Dopo dieci anni di crisi occorre costruire una risposta comune ed europea alla crescita della rabbia, della xenofobia, della paura e dei populismi di destra. Il Partito della Rifondazione Comunista organizza un incontro antifà con la sinistra europea. Sabato 15 settembre dalle 10 e mezza per un'Europa antifascista, antirazzista, antiliberista con presenze da Germania, Ungheria, Bulgaria, Austria, Spagna e tante realtà italiane. Uno spazio per discutere, ragionare e confrontarsi anche fra partiti e movimenti. Con il concerto del coro Suoni e Lampi e la partecipazione di Vermi di Rouge. Sabato 15 settembre dalle 10 e mezza Durante la festa di Rifondazione Comunista Milano Al parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via Santo Luminco Sabio 3 a Milano. Tutto il programma su Facebook e su Rifondazione.it E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ora è sempre resistenza, ora è sempre resistenza.